Serie B-Win appassionati. L'ultimi tre turni. Feczesin ancora dentro per l'ungherese il passaggio per l'inserimento di Fossati. E Lascoli va in vantaggio dopo sei minuti di gara alla Del Duca con la rete la quarta in questa Serie B-Win per Marco Ezio Fossati che sfrutta l'assist di Feczesin. Feczesin di fisico, entra in area, difende un buon pallone, Soncin spara alle stelle, Ascoli vivo in questo inizio di match. Missiroli dentro per Pavoletti, il sinistro, la traversa piena a Maurantonio battuto. Berardi, palla dentro, attenzione Missiroli che scivola davanti a Maurantonio. Palla per Masucci, lo stop, il destro immediato, il gol! Sorpreso Maurantonio! Siamo al venticinquesimo, il pareggio del Sassuolo con la seconda rete in questa Serie B-Win per Masucci. Berardi, il dribbling, l'appoggio per Pavoletti, il palo, il secondo legno per lui. Magnanelli dentro, attenzione, l'aggancio di Pavoletti, il destro, il palo e questa volta la palla. Finisce alle spalle di Maurantonio, il sorpasso del Sassuolo con la rete al ritorno dopo la squalifica per Pavoletti. Sono otto in Serie B-Win per lui. Tutto è pronto per l'inizio della ripresa, fischia l'arbitro Borrello di Mantova. Ascoli 1, Sassuolo 2. Inserimento di Bianchi, prova il sinistro, si accartoccia a terra a Maurantonio e blocca. Fezzes in lo stop, il sinistro immediato, palla che si bilalato di poco. Da Masucci a Pavoletti, palla dentro, Berardi, il gol! Il gol ancora del Sassuolo, 59esimo. Ascoli 1, Sassuolo 3. Sono 7 le reti in questa Serie B-Win per Domenico Berardi. Funziona a meraviglia il tridente dia di Francesco. Il tacco a liberare Pavoletti che arricchisce ancora di più la sua partita. Contropiede del Sassuolo, attenzione, Missiroli per Troiano, tutto solo. Il pallonetto! Michele Troiano! Ascoli 1, Sassuolo 4 al settantesimo. La Ribi dentro per Missiroli il sinistro. Maurantonio ci mette una pezza, poi la Ribi prova la cinquina per il Sassuolo. Ascoli in avanti solamente per provare a rendere meno pesante il passivo. Attenzione! C'è proprio la rete del 2 a 4 dei marchigiani con Adriano Montalto. Sassuolo che sta per sancire il più 10 sul Livorno, che ha perso in casa con il Crotone. Così è infatti finisce al Del Duca. Ascoli 2, Sassuolo 4.